Lo Sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali venditi con sconti oltre il 30%. Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Weekend di sentenze nel campionato di calcio di Serie D giunto alla 36esima giornata. Con due turni di anticipo, la Novese e il Castellazzo sono matematicamente retrocesse in eccellenza. I biancoverdi erano impegnati allo stadio Ottolenghi nel derby contro l'Aqui, gara che vediamo nelle immagini. Terminata 1-0 per i padroni di casa che grazie a questo successo conservano le speranze di disputare i play-out. Anche se sarà difficile recuperare sulla 15esima in classifica, attualmente il vado, almeno i tre punti necessari per evitare la retrocessione diretta. Partita bloccata e con poche occasioni da entrambe le parti, ma quando lo 0-0 sembrava ormai iscritto, al 92esimo Piovano è stato steso in area da bottino. Calcio di rigore, trasformato con freddezza dallo stesso Piovano. Castellazzo che saluta così la Serie D dopo un solo anno di permanenza, mentre le speranze dell'Aqui passeranno dallo scontro decisivo di domenica prossima in trasferta contro il Ligorna, sedicesimo in classifica. Epilogo amaro anche per l'annovese che viene travolta per 7-0 dall'Argentina, l'ennesimo capitolo di una stagione sciagurata, con una società allo sbando e senza alcuna certezza sul futuro. Il Dertona, che aveva già conquistato la salvezza matematica, è riuscito ad ottenere un buon risultato in trasferta contro il Rappallo Bogliasco, vincendo per 2-1 grazie ad un inizio travolgente nel quale i loncelli sono andati a segno due volte, al quinto e all'ottavo minuto. A nulla è servito il gol dei padroni di casa giunto nel finale di gara. E' rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03 È stato prorogato dal 5 maggio al 10 giugno 2016 il termine di presentazione delle domande del contributo regionale per gli assegni di studio per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 e del contributo statale per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2015-2016. Coloro che avessero necessità del rilascio delle credenziali o di assistenza alla compilazione del modulo di domanda possono presentarsi presso l'ufficio gestione amministrativa e diritto allo studio presso il comune di Alessandria. Grazie. Grazie. Grazie.